La realizzazione del ponte Margherita di Dragoni ritorna di attualità per la sua importanza strategica. Dopo la messa in sicurezza con l'istituzione della doppia corsia su un solo lato del ponte e limitato ai mezzi non superiore ai 35 quintali, abbiamo voluto riaccendere i riflettori sul viadotto più criticato della provincia di Caserta. Questo perché è una struttura importante essendo la vera porta del Matese e per i tanti disagi che causò agli imprenditori nei mesi scorsi proprio perché si trova a ridosso dell'area industriale. Ma una novità c'è, l'indeprovincia di Caserta il 14 ottobre scorso ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione del viadotto per un importo di oltre 5 milioni di euro, somma che rientra nella messa in sicurezza della direttrice Caserta Monti del Matese. Non siamo scesi nei dettagli per questione di tempi ma il ponte sarà costruito ex novo. Non è ancora possibile però sapere un altro dato importante, quali saranno i tempi di realizzazione. Da Dragone è tutto, Lorenzo applauso per casertasera.it